Il Signore per bocca di San Giacomo ci mette in guardia contro i mali che vengono dalla lingua e ci è sosta a tenere a freno la lingua perché è come il timone di una nave perché dirige tutta la nostra vita per cui dice che chi sa frenare la lingua è un uomo perfetto e poi parla di tutti i mali che può produrre la lingua ed è sosta a tenerla a freno, a dirigerla bene perché dalla lingua può procedere il bene e il male per noi e per quelli che stanno attorno a noi è come una piccola fiamma un cerino che è buttato in una foresta può incendiare tutta la foresta con la lingua benediciamo il Signore facciamo tanto bene portando la parola di Dio possiamo salvare con la lingua possiamo condannare e rovinare ecco perché chiediamo questa mattina al Signore di mettere un mosso alla nostra bocca di frenare la lingua e di aprire la nostra lingua a lodare Dio a benedirlo per tutte le meraviglie che ha compiuto per tutto il bene che ci ha dato di aprire la lingua e la bocca per proclamare la parola del Signore che può salvare tanti anime ma di frenare la lingua quando questo dovesse nuocere al prossimo e tanto più quando dovesse questa lingua maledire Dio o maledire gli altri che sono fatte di magia di Dio o Signore Dio Onipotente noi ti preghiamo di frenare la nostra lingua tu ci hai data la parola questo grande dono dato soltanto all'uomo perché gli angeli non parlano perché le messie non parlano e prerogative dell'uomo tu ci hai data la parola perché facesse quella parola eterna e perché attraverso la parola venisse manifestata la verità la bontà tutto ciò che è bene Signore ti chiediamo questa mattina tu che ci hai data la parola fa che la nostra bocca si apra la parola di sapienza e si chiude a qualsiasi parola in sussa perché come tu hai detto di ogni parola inutile dobbiamo chiedere conto a te Signore scendi qui in mezzo a noi parola eterna scendi dentro di noi e dacci la tua parola perché con la tua parola noi possiamo annunziare al mondo che tu sei il Signore e possiamo governare noi stessi dirigere noi stessi nella via della pace Dio eterno e connipotente tu hai voluto che per mezzo dell'acqua elemento di purificazione e torgente di vita anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato rinnovi in noi Signore la fonte vive dalla tua grazia e difendici ed ogni male dell'anima e del corpo perché veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore Signore regnati di veridire questo sale tu ordinassi al profetto Eiseo di risanare l'acqua con il sale fa che mediante questo dubbio non c'è segno di purificazione siamo liberati dall'insidio del maligno e questo dite dalla presenza del tuo Santo Spirito per Cristo nostro Signore amore su di voi verserò dell'acqua pura e sarete mondi da ogni vostra colpa e vi darò un cuore nuovo o un labbro nuovo dice il Signore Gesù Gesù benediciamo con la nostra bocca Gesù usiamo la nostra lingua per lodare Dio lodate proprio tutto il Signore benedite il suo nome ora e sempre ecco lodiamo il Signore con la nostra bocca usiamo bene la nostra bocca in questo momento lodiamo Dio e Gli ha purificato le nostre lambra ha purificato se noi ci crediamo la nostra bocca e allora si apre la bocca la lodi di Dio crediamo quel nome grande che era nel cuore del Padre e il Padre rivelato agli uomini e in cui è la nostra salvezza Gesù 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 in vacazione in vacazione in vacazione questo è il nome dato dal Padre chiamato dal Padre fin dall'inizio e rivelato dall'Angelo a Maria e a Giuseppe è questo nome che li suoni nella nostra bocca perché il nome di Gesù purifica la nostra bocca per la nostra lingua santifiche tutto l'essere nostro gridiamo allora sempre in canto Gesù 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 Gesù, Gesù, Gesù. Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 Gesù. 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 Gesù, 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 Gesù. 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 Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 Gesù. dell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli Dalla lettera di San Giacomo Apostolo Fratelli miei non fatevi maestri in molti sapendo che noi riceveremo un giudizio più severo poiché tutti quanti manchiamo in molte cose se uno non manca nel parlare è un uomo perfetto capace di tenere a freno anche tutto il corpo quando mettiamo il morso in bocca ai cavalli perché ci obbediscano possiamo dirigere anche tutto il loro corpo ecco anche le navi benché siano così grandi e vengano spinte da venti gaiardi sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole chi le manovra così anche la lingua è un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose vedete un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare anche la lingua è un fuoco è il mondo della iniquità vive inserita nelle nostre membra e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita traendo la sua fiamma dalla genna infatti ogni sorta di bestie di uccelli di rettili e di esseri marini sono domati e sono stati domati dalla razza umana ma la lingua nessun uomo la può domare è un male ribelle è piena di veleno mortale con essa benediciamo il Signore Padre nostro e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio è dalla stessa bocca che esce la benedizione e la maledizione non deve essere così fratelli miei parola di Dio parola di Dio in quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto in un lodo ha partato loro sole si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti bianchissime bianchissime come nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche e apparve loro e dia con Mosè che discorrevano con Gesù prendendo allora la parola Pietro disse a Gesù Maestro è bello per noi stare qui facciamo tre tende una per te una per Mosè una per Elia non sapevano infatti che cosa dire poiché erano stati presi dallo spavento poi si formò una nube che li appose nell'ombra e uscì una voce dalla nube questo è il mio figlio prediletto ascoltatelo e subito guardandosi attorno non viverò più nessuno se non Gesù che era con loro mentre scendevano dal monte odinò loro di non raccontare nessuno ciò che avevano visto se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai molti ed essi tennero per sé la cosa domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai molti e lo interrogarono perché gli scritti dicono che prima deve venire lì e lei rispose loro sì prima viene lì e ristabilisce ogni cosa ma come sta scritto del figlio dell'uomo che deve soffrire molto ed essere disprezzato or bene io vi dico che lì è già venuto ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto come sta scritto di lui parola del signore lì 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 Alleluia, 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 alleluia. E il racconto della trasfigurazione secondo il Vangelo di Marco è un fatto centrale nella vita di Gesù, raccontato da Matteo e da Luca, e ricordato dall'Apostolo Pietro nella sua lettera. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli sul tabor che si erge proprio sulla riva del lago di Cianesaret. È bello contemplare quel mare azzurro proprio dalla sommità del tabor. Un luogo incantevole. Gesù è in viaggio verso Gerusalemme. Durante il viaggio ha parlato con i suoi discepoli. Ha detto che è necessario che il figlio dell'uomo vada a Gerusalemme. Là lo prenderanno, lo crocivigeranno, lo metteranno a morte. I discepoli non comprendono, non vogliono comprendere questo discorso. Gesù lascia gli altri discepoli a valle e con Pietro e Giacomo e Giovanni sale sul monte. L'asola montagna si trasfigura davanti ai loro occhi, incantati. Un fulgore più grande di quello del sole avvolge Gesù. Accanto a Gesù due personaggi, Giacomo e Giacomo è un po' di cura di Giacomo. Giacomo è un po' di cura di Giacomo. I rappresentanti della legge e dei profeti. E si parlano con Gesù. Giacomo è un po' di cura di Giacomo. Gli apostoli non comprendono Il discorso che tengono Gesù, Elia e Mosè Ma il discorso verge sulla passione e morte di Gesù Sulla necessità che il Cristo muoia per rimare il mondo Ma è un discorso difficile ad entrare nella mente dei discepoli Ecco ad un momento la voce del Padre che si fa sentire e scuote tutti Questo è il mio figlio diretto, ascoltatelo E il Padre del Cielo che ha detto a Gesù parola eterna che è scesa nel tempo Colui che porta la verità in mezzo agli uomini Colui che solo può rivelare Dio Colui soltanto che con autorità può parlare agli uomini Fatta di immagini di Dio e può invitarle a camminare nella via della salvezza Che è lui stesso E' interessante questa parola del Padre Ascoltate Gesù Lui solo è la verità Lui solo conosce la verità Lui solo porta la verità in mezzo agli uomini Se volete essere nella verità Ascoltate lui Gli apostoli pensano a se stessi Sono incantati da quella visione Pietro Inebriato dice al Signore come è bello stare qui Come è bello Facciamo tre tende Una per te Una per Elia Una per Mosè E noi ce ne saremo qui Come in cielo Beati A vedersi Ad ascoltate Ma ad un tratto Una nube Avvolge tutti E tutto si dilegua Si ritrovano gli apostoli con Gesù Nelle veste usuali Si stropieciano gli occhi gli apostoli Così è avvenuto E Gesù dice Discendiamo adesso A valle E proseguiamo il cammino Però non dite a nessuno Quello che avete visto Fino a quando Il figlio dell'uomo Non sarà risuscitato Dei morti E gli apostoli scendono con Gesù Gioia nel cuore Gioia nel cuore Mestizia nel cuore Insieme Ci domandano tra di loro Che significa risuscitare dei morti Perché questo silenzio Che noi dobbiamo tenere Su questo avvenimento E che cosa significa Questo risuscitare dei morti Si congiungono con gli altri apostoli E Gesù riprende il cammino E continua il discorso Qual è il discorso? Gesù prima di salire sul monte Lungo la strada Tiene il discorso sulla sua passione morte Là, sulla montagna I due grandi intercessori E i due grandi parlatori del Vecchio Testamento Mosè e Delia Parlano con Gesù Della necessità della sua morte Gesù scende e riprende il discorso Sulla sua passione morte E si avvia verso Gerusalemme Dove Sarerà il Calvario Sarà messa a morte Per la redenzione dell'uomo E' interessante questo discorso di Gesù Perché il Padre si dice Ascoltatelo Ascoltatelo E' il discorso della passione morte del Signore E' il mistero pasquale Che si parla davanti ai nostri occhi E nel mistero pasquale C'è il mistero della nostra vita Perché se vogliamo essere salvati Dobbiamo entrare Nel mistero di Cristo Nel mistero pasquale Della sofferenza Della morte E della risurrezione Quello che avviene a Cristo Avviene anche a noi nella vita Siamo nello stesso percorso Perché Egli è la via L'unica via Per noi ha anche il discorso Di dover patire Soffrire Per entrare nella gloria E' il discorso della sofferenza umana Del rinegamento da parte degli uomini Se siamo ascoltatori del Vangelo Se siamo seguaci di Cristo Avremo persecuzioni Saremo rinegate dagli uomini E se vogliamo essere a parte Della gloria di Cristo Dobbiamo soffrire E accettare Ogni sofferenza che Dio ci manda Per essere a parte Della croce di Cristo Ed essere così a parte Della gloria di Cristo Nella risurrezione Però è su un particolare Che io voglio fermarmi Che è proprio di Marco Gesù Nel viaggio di ritorno Ha un discorso Con i discepoli Proprio E lui che dice Ma Noi Sappiamo Che prima deve venire Lìa Prima di tutte queste cose E' un'interrogazione Che gli apostoli rivolgono al Signore Lo interrogarono Perché gli iscrivi dicono Che prima deve venire Lìa Prima della passione E morte del Signore E Gesù risponde Sì Prima Viene Lìa E ristabilisce Ogni cosa Però comprendete Quello che vi ho detto Come sta scritto Del figlio dell'uomo E gli deve molto soffrire Ed essere disprezzato Questo è il punto centrale Della rivelazione E lìa E lìa Sì Ma lìa E' già venuto E' già venuto Ma non hanno ascoltato La sua voce E' venuto il mio precursore Giovanni Battista E' l'interpretazione Che da Un altro evangelista Già è venuto E' annunciato Che io sarei venuto In questo mondo Ma hanno fatto di lui Quello che hanno voluto Lo hanno ammazzato Come sta scritto Di lui Chi dice la verità E' ammazzato Hanno ammazzato Elia Che apriva la bocca Per dire la verità Il peccato Non esiste Di fronte alla verità E quando insorge Il peccato Uccide la verità O uccide colui Che dice la verità Perché la verità Non può essere uccisa La verità è Dio Ma uccide chi porta La verità Venne Gesù Maestro Venne Gesù La verità stessa E lo hanno eliminato Perché diceva la verità Il peccato In questo mondo E' l'autore del peccato In noi Il maligno Non sopportano La verità Diceva Gesù Di lui Che la verità Non è lui Fin dall'inizio Egli è decaduto Dalla verità E tutto ciò Che è sulle loro bocche E' falsità E ciò che è falso Ciò che è male Non può sopportare Il vero Non sopportare Il buono Il bene Vediamo E' per questo Che nella lotta Il male cerca Di eliminare il bene La menzogna Cerca Di eliminare La verità Ma la verità E' eliminata Risorge Il bene eliminato Risorge Cristo risorge E ogni menzogna Viene Distrutta Ogni inganno Viene livellato Il maligno Viene conculcato Però E' pur vero Quello che dice Gesù Che chi dice la verità Viene eliminata Dagi uomini Nel mondo Non c'è la verità Che sono i portatori Della verità Ma non per questo Dobbiamo Noi Uscire Dalla via Dalla verità Dobbiamo dire La verità E dobbiamo praticare La verità E la verità È Cristo Signore Che dobbiamo Parlare Cristo E dobbiamo Vivere Cristo Perché è la verità Che confonde La menzogna E' la verità Che vince Tutto il malessere Di questo mondo Fratelli e sorelle Questo discorso E' per noi Possiamo anche noi Soffrire Subire persecuzioni Perché pratichiamo La verità Che è la fede In Cristo Signore Perché diciamo La verità Che è Cristo Signore Ma attenti Alla verità La verità Non è quello Che noi diciamo Non sono le cose Nostre La verità Non sono i fatti Quotidiani La verità Sì Possono essere Diflessi Dalla verità Ma la verità Di cui parla Gesù E' lui stesso E quando il padre Dice Ascoltatelo Ascoltate Gesù Ci vuole mettere Tutti in ascolto Della verità Noi facciamo risuonare Nella nostra bocca Nella nostra bocca La verità Cioè la nostra bocca Deve essere come L'organo Attraverso cui La verità Viene ripetuta Agli uomini Siamo dei ripetitori Della verità Ma per essere fedeli Ripetitori Della verità Bisogna ascoltare La verità Bisogna ascoltare Colui Che è la verità Bisogna essere In ascolto Costante Di Cristo Ed è qui Che io voglio Un momento Attraverla Vostra attenzione Senso un fedeli Ascolto Di Cristo Di quello Che dice Cristo Di sé Di quello Che Cristo Dice del Padre Di quello Che dice Cristo Di noi Di quello Che dice Cristo Del mondo Noi Non possiamo Annunciare La verità Ripete che quando parlo Di verità Non parlo Delle verità Contingenti Delle piccole verità O menzogne Che noi possiamo dire Ma Si parla Delle verità Con la V Maiuscola La verità Che è Dio Soltanto Stando in ascolto Di Cristo Che è la verità Noi possiamo Parlare Secondo verità Possiamo annunziare La verità Possiamo praticare La verità Di qui Il bisogno Assoluto Di essere In ascolto Di Cristo E soltanto Di Cristo Perché lui Soltanto È la verità Chiudiamo le orecchie Ad altri ascolti Ad altri maestri Perché essi Non dicono La verità O intanto Dicono la verità In quanto Se rifanno Alla verità In quanto Sono Fedelmente Trasmettitori Fedeli Trasmettitori Della Parola di verità Che è Cristo Signore La verità È Cristo Dove Non c'è Cristo Ivi Non c'è Verità In mezzo Agli uomini Oggi ci sono Tante Benzogne Tutto il mondo È nell'inganno Il mondo Vuole eliminare Cristo L'unica verità Che può rendere Libero L'uomo E il mondo Si incaponisce Ne chiudere la bocca A chi porta La verità Il mondo Si incaponisce Ne negare Posto Alla verità Apri le porte A tutte le menzogne A tutti i maestri Che si fingono Portatori di verità E chiuda la porta A colui Che è la verità Non vogliamo Che costrui parli Non vogliamo Che costrui Il regno Sopra di noi È la triste realtà Di oggi Ma noi Ti abbiamo ricevuto La parola Della verità Facciamoci Risonanza Fedeli Della verità Predichiamo Cristo Perché soltanto In Cristo È la salvezza Dell'uomo Qualunque cosa Poi potranno dire Domandate C'è Cristo? C'è Cristo? Se in qualunque dottrina Se in qualunque pratica Non trovate Cristo Non trovate il Vangelo Ripudiate Tutte quelle che vi dicono Ripudiate Tutte quelle che fanno Tutto questo Fa puzza di menzogna Fa puzza del maligno In cui non c'è la verità La verità È Cristo È tutto ciò Che odore di Cristo Allora tutto questo È degno di essere Ascoltato Preso Perché Cristo È l'unica verità Del mondo È l'unica verità Per gli uomini Chiediamo al Signore Gesù Di essere radicati Nella verità Per annunciare la verità Perché noi E tutti gli uomini Possiamo essere liberi Nella verità Come diceva Lo stesso Gesù O Gesù Tu sei la verità Tu sei l'unica verità Tu sei la verità Che dà la vita E tu sei la verità Che tracci la via Perché l'uomo Diventi libero Perché l'uomo Diventi se stesso Perché l'uomo Diventi Dio Come tu sei Dio Cioè partecipe Della divina natura Perché l'uomo Raggiunga Il suo ultimo fine Che è quello Di contemplarti E Di annunciare Sempre le tue lodi O Dio eterno E misericordioso Amo Dio eterno E misericordioso 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 Signore, vogliamo adesso innestare la preghiera per i sofferenti. Non possiamo eliminare la sofferenza dalla vita nostra cristiana, altrimenti non sarà più la via cristiana. Il mondo di oggi dice che non bisogna soffrire, non accetta la sofferenza e cerca tutti gli espedienti per uscire dalla sofferenza. Il mondo di oggi predica che tutto si chiude in questo mondo, che non c'è né tabor né gloria del cielo. Pertanto dobbiamo vivere qua giù, dobbiamo sorbire qua giù tutto il bene che possiamo. E' per questo che bisogna migliorare la vita e bisogna eliminare ogni sofferenza, a tutti i livelli. Oggi il mondo non accetta la dottrina della croce, perché è nemica della croce. Tutto questo è menzogna. La verità, o Gesù, è un'altra, quella che dici tu, quella che tu dicesti agli apostoli, discendendo dal tabor. E' necessario che l'uomo, figlio dell'uomo, patisca e sia messa a morte per entrare nella gloria. La verità è quella che dicesti tu, nella via di Emmaus, ai tuoi discepoli, sconfortati, era necessario che Cristo patisse. La verità è che, se siamo consorti tuoi, o Signore Gesù, dobbiamo essere dalla sofferenza e poi dalla gloria. Ed è ineliminabile la croce dal cristiano, un cristiano senza croce, un cristiano che non è crocifisso con la croce, non avrà mai parte con te. O Signore Gesù, questa è la verità, fa che noi ripudiamo l'errore, la menzogna, e accettiamo la verità, quella che tu dici. Questa sera, questa mattina, Signore, noi vogliamo pregare, non perché tu elimini la sofferenza dalla nostra vita, sarebbe eliminare la croce, e senza la croce non c'è salvezza. Ma ti chiediamo la forza di sopportare la sofferenza, ti chiediamo la grazia di superare le prove che tu ci mandi. Se tu vuoi guarirci da alcune malattie, guariscici, oh Signore, per mostrare a noi la tua misericordia, la tua presenza, ma non puoi tu eliminare la sofferenza dalla nostra vita. Signore Gesù, la malattia non l'hai creata tu, l'abbiamo creata noi, con i nostri peccati, ed è per questo che ti chiediamo di liberarci dalle nostre malattie, sia quelle spirituali, sia quelle psicologiche, sia quelle fisiche. Ma non ci liberare completamente, e non ci puoi liberare completamente dalla sofferenza, perché sarebbe liberarci dall'appartenenza a te durante il pellegrinaggio terreno. Signore Gesù, ti chiediamo che si compie in noi la volontà del Padre, e se preghiamo per tutti i nostri sofferenti, se ti preghiamo per tutti i nostri malati, è per compiere un atto di amore. Ed è per innistarci in quella intercessione che tu eserciti sempre, unico intercessore valido, tra il cielo e la terra. Signore, noi entriamo nella tua intercessione. Come i tuoi grandi intercessori, Mosè e Delia, entrare nella tua intercessione. Ed entrando nella tua intercessione, vogliamo chiedere al Padre, che la sua misericordia scenda su di noi, ci libere da tutti gli ostacoli che si frappongono alla nostra salvezza. Ci libere dalle malattie, ci libere dalle sofferenze dello Spirito, ci libere di tutto ciò che rende difficile il nostro cammino. Signore Gesù, noi pregando per i sofferenti, o pregando per noi, vogliamo entrare nella tua intercessione, vogliamo entrare nella volontà del Padre. Nulla avvenga in noi che non sia in conformità alla volontà del Padre. Si compie, oh Gesù, la volontà del Padre, come in cielo, così in terra. Amen. Ascolta, oh Padre Santo, la preghiera degli umili, ascolta la preghiera che abbiamo messo ai tuoi piedi. Per i nostri fratelli che si raccomandano a te attraverso di noi, e concedi a tutti la remissione dei peccati, la guarigione spirituale ed anche la guarigione fisica. Ti presentiamo poi, oh Signore, noi stessi, con le nostre malattie psicologiche, spirituali e fisiche. Abbi pietà, oh Signore, di questo popolo in cammino. Vieneci soccorso, Signore. Viene soccorso dalla nostra debolezza, perché non veniamo meno nel cammino. Sostienici con la tua grazia. Te la domandiamo per Cristo, nostro Signore. Signore dei peccati, fate questo in memoria di me. Signore. e io rendi all'ora ma anacara e la iera noia l'era nu iuri mia nua e la mia julia e sciorogh ti amontanù naca mara e la mala e la luna te nuchira nua e la nomia l'entira naca mara e la mala e la mala e la luna e la mia julia e la luna